Musica 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 Today apriremo questo coso che non ho idea di cosa sia è un da un mio iscritto qui c'è scritto aprilo in un video anche che con quale calligrafia questa mia mano ciao qui c'è scritto weddings vabbè qui c'è Juve a caso non so cosa devo aspettarmi da questa roba quindi niente lo apriamo qui c'è anche il cane waft quindi ciao bellissimo allora lo apriamo ovviamente con una mano e ho analizzato che dentro allora c'è sto bigliettino Luna mi mantieni il telefono mantieni mantieni il telefono ok fermo allora vediamo qui c'è scritto si mette a fuoco si chi mette a fuoco vabbè allora c'è scritto vabbè Bologna Juventus 0 a 1 per il Bologna vabbè lo sbaglia insomma robe che non mi interessano poi ok sei libera qui c'è un'altra cosa c'è scritto allora per weddings aprilo in un video please e questo cos'è ok allora lo apriamo un po' di più c'è scritto per weddings da Fabio eeeh quanta roba allora analizziamo tutto piano piano allora qui c'è un bellissimo disegnino weddings qua dietro nulla quindi niente weddings non si apre in alcun modo vabbè per weddings da Fabio qui c'è un'altra cosa c'è scritto trolololololo e qui foglio vuoto qui ci sono altre scritte ah si i consigli quindi diciamo anche i consigli consigli crea serie minecraft una c'è già top 10 e gaming grazie Fabio per per questo casino qui che poi alla fine su un foglio c'era scritto trolololololol e qui c'è vabbè il disegnino è molto figo e niente grazie comunque per i consigli e niente spero il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale global games anche al canale webx naturale e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao scusa Fabio avevo dimenticato di aprire questo quindi mi dispiace vabbè e comunque qui c'è scritto vabbè ero 200 iscritti quindi non è che abbia assoltato proprio chissà cosa e niente basta non c'è nient'altro